Questo video è sponsorizzato da Eneba, sito di K attraverso il quale potrete acquistare videogiochi a prezzi particolarmente vantaggiosi e con il codice freccia blu avrete un ulteriore 3% di sconto per la gioia di chiunque non veda l'ora di poter ingrandire ulteriormente la sua già enorme pila videoludica. Sony è più o meno da due annetti che sta cannando praticamente tutto a livello di comunicazione, certo, le PS5 vendono come il pane e il marchio è ovviamente molto forte, ma dopo un anno di silenzio totale, la compagnia nipponica si è data più e più volte la zappa sui piedi. Dichiarazioni contraddittorie, team chiusi o ridimensionati, gli screzi con Ben Studio, la tentata chiusura degli store PS3, PSP e PS Vita, sono tutti errori che la società può permettersi proprio perché la generazione precedente è stata dominata da PS4, ma che in un lontano futuro, magari con una Microsoft più aggressiva, potrebbero fare molto più male. Sapete invece dove Sony non sta sbagliando un colpo? I giochi. A ben pensarci, la società giapponese si sta comportando davvero bene sotto tale aspetto, almeno per i miei gusti, con tante produzioni PlayStation di qualità che hanno allietato questi tre quarti del 2021. Astro's Playroom è stata una graditissima sorpresa, non avendo mai giocato a Demon's Souls, il suo remake si è rivelato imperdibile, Spider-Man Miles Morales, DLC o meno, mi ha divertito come un coglione, ho sborrato sangue quando ho saputo che Oddworld Soulstorm sarebbe stato offerto con il plus, Sackboy e Big Adventure è stato un piacevolissimo svago e Ratchet & Clank e Rift Apart è una perla. Insomma, tanti titoli di qualità a cui se ne affiancheranno altri ancora in un prossimo futuro, basti pensare all'imminente Kena, Bridge of Spirits o Adoraison 2, ma c'era un gioco in particolare che più di ogni altro, tra tutti quelli della ludoteca PS5, aveva catturato il mio interesse. Returnal, un titolo frenetico, ricco e intrigante e che fin dal suo primissimo trailer di presentazione mi vide esordire con un poderoso puttana boia. Il gioco sembrava avere tutto, un roguelike con loop temporali, ambientazioni sci-fi, una trama interessantissima, alieni dal design accattivante e una struttura ludica da ballettel, a me in pratica lo avevano già venduto. E infatti... RESTO SECCAL DAY ONE Avviato, divorato e finito. Se ne è parlato parecchio in questi mesi e anche io voglio aggiungermi al carrozzone di voci che hanno riempito YouTube. E permettetemi di farlo partendo da un elemento che in questi giochi raramente ottiene particolare risalto. La trama. E signori miei, che trip. Non c'è prefazione, non vi è un menu iniziale, solo una cazzin di pochi secondi ed eccoci immersi nel cuore dell'azione. Qualcosa colpisce la nostra nave, precipitiamo su un pianeta sconosciuto, tempo qualche minuto di spaisamento ed ecco che innanzi a noi si pare il nostro stesso cadavere, perché qui il concetto di morte vera e propria non esiste. Se il nostro cuore dovesse smettere di battere, finiremmo solo con il risvegliarci nel luogo in cui ci eravamo inizialmente schiantati. Non voglio dirvi assolutamente nulla della sceneggiatura che caratterizza Returnal, ma personalmente l'ho adorata. L'intero intreccio narrativo ha saputo conquistarmi fin dal primo istante, tenendomi perennemente sulle spine per tutta la durata del mio viaggio. Come facilmente immaginabile, visto il genere d'appartenenza, la storia appare molto frammentata e la si deve ricostruire tra audio log sparsi in giro, qualche sporadica cutscene e le fasi nelle case, e quest'ultime in particolare sono state tutte fantastiche. In game si respira un mood dal retrogusto horrorifico che mi è assai piaciuto e le innumerevoli stranezze al limite del paranormale con cui ho avuto a che fare mi hanno tenuto letteralmente incollato allo schermo. Ammetto che alla fine su alcune questioni rimane il proverbiale punto interrogativo, un po' a libera interpretazione del giocatore, ma in generale il lavoro è stato superbo. Inoltre, piccola nota a margine, il colpo di scena che arriva a metà avventura mi ha praticamente tolto il respiro. Fantastico. Sì sì, Freccia, va bene, tutto bellissimo, ma adesso passiamo alle cose serie, passiamo al gameplay. E sì ragazzi, considerando che si parla di un team che fino all'altro ieri ha puntato tutte le sue carte su produzioni il cui cuore pulsante è sempre stato il gameplay nudo e crudo, anche per questo Returnal le aspettative erano assai elevate e per me non sono state disilluse, tutt'altro. Come detto prima, Returnal incarna la perfezione e lo stile di un roguelike con le peculiarità di un ballettel. Quindi preparatevi a una marea di armi, potenziamenti, abilità, nemici, proiettili che volano ovunque e tante 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 bestemmie. Come da tradizione per il genere, Returnal è infatti un'esperienza bella tosta, basterà veramente poco per ritrovarsi innanzi al game over e in ogni stanza verremo spesso e volentieri accerchiati da nemici su nemici che con giusto qualche colpo ben assestato potranno mandarci all'altro mondo. In realtà l'avventura parte in maniera anche abbastanza tranquilla, la prima delle sei ambientazioni presenti, o biomi come vengono chiamati normalmente, si è rivelata piuttosto semplice da superare, ma già dalla seconda sono iniziati dolori, anche se in realtà tutto è molto casuale. E sì ragazzi, perché il roguelike è anche questo, muori, ripeti, ma in una mappa completamente diversa, così che a ogni partita si possa vivere un'esperienza unica. Cambiano le arene, cambiano i nemici, cambiano gli oggetti e conseguentemente molto viene dettato anche dalla fortuna. Magari trovi l'equipaggiamento giusto fin da subito e vai spedito, oppure ti becchi i randi merdi in rapida successione che ti fanno sudare il triplo. Ad alcuni ci odderà fastidio, ma anche questa è parte intrigante dell'esperienza roguelike. Io per esempio ho avuto un sacco di problemi con il terzo bioma, mentre poi tutta la seconda metà di gioco, letteralmente tre interi biomi, li ho completati in una singola run, proprio perché avevo trovato le armi e i potenziamenti giusti. È qui che però mi si è palesato un problema molto stupido, ma anche parecchio fastidioso, l'assenza di checkpoint. No 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 no, aspetta, ma non dovrebbe essere proprio questa una delle feature più peculiari dei roguelike? E te ne lamenti? Lo so, lo so, potrebbe suonare strano, ma il perché del mio fastidio è presto detto. Se da una parte comprendo, accetto e apprezzo il dover ricominciare l'avventura in caso di game over, non riesco a capire perché, se spengo la console, il gioco me la conti comunque come una morte, facendoti quindi ricominciare da capo una volta riacceso il tutto. È un'idea stupida che si poteva girare con estrema facilità e che altri roguelike non presentano, pensate ad Hades o The Banding of Isaac per fare due esempi lampanti. Proprio volendo parlare della mia esperienza, avendo giocato gli ultimi tre biomi uno di seguito all'altro, per due giorni non ho potuto spegnere la console né cambiare titolo. Invece che spegnerla quindi, giù di modalità riposo e pregate Dio che nel mentre non arrivi un qualche aggiornamento del gioco della console, visto che in tal caso la console si spegnerà facendovi perdere i progressi fatti. Chiariamoci, è una piccolezza, ma proprio poiché è una cretinata, non capisco perché non occuparsene. Il gioco tenta pure di velocizzare l'avventura man mano che si avanza, visto che sconfiggendo i boss principali si ottengono particolari potenziamenti permanenti con cui velocizzare enormemente l'esplorazione, così da sbloccare nuove strade scorciatoie. Del tipo che, se alla prima run un bioma vi durerà un'ora, alla quinta ci metterete dieci minuti a completarlo. Ma il problema, anzi il fastidio rimane, alcuni potrebbero non farci mai caso, mentre per altri potrebbe creare non pochi grattacapi. Ma tolti questi... ...dettagli. Il gameplay, il gunplay. Com'è? Beh, 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 posso dirvi che tutto ciò che ha contraddistinto la mia esperienza, peda la mano, ha saputo conquistarmi. I comandi sono estremamente responsivi, ci si sente pienamente in controllo della protagonista, la coordinazione mano-occhio è essenziale e spesso ci si ritrova a diblare proiettili tra scatti, salti e svolazzata destra e manca. L'avventura impone di non fermarsi mai, pena un'ignobile morte causata dai centomila proiettili che vi cadranno perennemente addosso. Ogni arena è piena zeppa di nemici, spesso di diversa tipologia e quindi con attacchi parecchio diversi. La varietà generale è molto elevata, tante ambientazioni, tra l'altro tutte caratterizzate da un ottimo level design, tantissimi nemici miniboss, alcuni dei quali veramente infami, e la giusta varietà di armi, tutte potenziabili e con attacchi secondari. Alcune sono molto classiche, tipo lanciamissili e pistole, mentre altre appaiono ben più particolari, tipo spara palette elettrici che poi si collegano tra loro per creare una rete elettrificata. Anche se personalmente io ho preferito in assoluto la carabina tachiomatica e il vuoto implacabile, praticamente le mitragliatrici del gioco. Qui tra l'altro entrano in campo altri due peculiari elementi ludici, ovvero l'adrenalina e la competenza. La prima aumenta man mano che si eliminano nemici senza farsi colpire. Più aumenta il livello dell'adrenalina, più si diventa potenti. I danni aumentano, la nostra arma acquisisce un fuoco secondario, i tempi di ricarica diminuiscono e così via. Proprio l'adrenalina si è rivelata particolarmente importante e utilizzata molto sapientemente. Offre dei bonus davvero utili e spinge a una sorta di perfezionismo, visto che al primo colpo subito il livello d'adrenalina ritorna a zero. È una piccola idea che però è stata implementata nel migliore dei modi possibili e impreziosisce parecchio l'esperienza. Dall'altro lato invece abbiamo la competenza che si ottiene con peculiari oggetti o eliminando avversari. Più questa aumenta, più le armi che troveremo in giro saranno potenti, così da dare un senso di progressione man mano che ci si trova in partita. A tutto questo bisogna poi aggiungere parecchi altri elementi, oggetti narrativi a singolo utilizzo che offrono un qualche bonus estremamente utile, parassiti che queste raccolte aggiungono specifici bonus e malus, numerose apparecchiature dagli svariati utilizzi, magari aumenteranno la tua vita, ti creeranno un qualche oggetto o chissà, ti ammazzeranno. Tutto è calcolato per farti riflettere su come è meglio muoversi, quando sia meglio rischiare, quando sia più intelligente giocare in difesa, con un risultato finale davvero riuscito. Peccato solo che molti di questi elementi si siano rivelati, diciamo tra parentesi abbastanza inutili. Dopo le prime ore in game infatti, mi sono reso conto che dei 100 oggetti presenti, 100 come modo di dire se è chiaro, solo una ventina servono realmente a qualcosa, infatti di tutte le armi io ne ho usate davvero solo due, i potenziamenti relativi alla vita sono ciò che più di ogni altra cosa serve e ci sono un paio di oggetti rari particolarmente utili che dovete cercare di avere sempre, tipo l'astronauta, chi ha giocato il titolo capirà. E purtroppo questo è un po' un peccato, visto che nelle ultime fasi di gioco mi sono ritrovato a ricreare sempre la stessa build, il che fa perdere un po' della varietà che il team voleva offrire. Ciò comunque non ha fatto venir meno il divertimento e l'interesse che ho provato nel corso di tutta la mia avventura, anche perché la qualità è presente a pacchi e la si sente con grande forza. Il comparto artistico della produzione è di primo ordine, con questo stile che mi ha ricordato più e più volte Alien o Covenant volendo guardare i film più recenti. Ogni ambientazione è carica di fascine e mistero, team voglia esplorarla per comprenderla al meglio e alcuni scorci sono semplicemente indimenticabili, così come il design di tutte le creature affrontabili è da 10 lode, un lavoro di grande impatto che si lega a un doppiaggio italiano davvero ottimo dove il 95% delle battute sono state affidate a una sola persona. I suoi toni, l'espressività che è percepibile da ogni frase, i momenti di disperazione, di rabbia, di follia, sono tutti rappresentati con grande maestria. Riuscire a tenere alto l'interesse con una sola voce che fa da sfondo a 20 passore di gioco non è affatto un compito semplice, e questo tutti coloro che hanno giocato a Biomutant lo sanno molto bene. Ma Returnal è riuscito in questa impresa, e al riguardo non posso far altro che applaudire. In tutto questo calderone d'opinioni merita poi un piccolo spazio un altro elemento distintivo del gioco ed esterno al titolo stesso, il DualSense. Sarò onesto con voi, quando PlayStation 5 giunse nei negozi non avevo idea di quale impatto avrebbero potuto avere le nuove feature offerte dal DualSense, e a essere onesti ancora oggi fatico a capirlo, ci sono stati titoli che hanno saputo sfruttarlo molto bene e altri che invece non lo utilizzavano affatto. Ma cavoli se Returnal è riuscito a giocarsela alla grande. Ogni caratteristica del pad è stata sfruttata meravigliosamente. La prima volta che ho impugnato il controller, in game ha iniziato a piovere e riuscivo a sentire distintamente le vibrazioni delle singole gocce d'acqua, ho provato una sensazione quasi mistica. Ben presto ho imparato anche a utilizzare il pad stesso come un vero e proprio indicatore, a seconda delle vibrazioni o dei suoni emessi, mi rendevo conto di quando il fuoco secondario si fosse ricaricato, senza necessità di distrarmi per guardare un qualche segnale su schermo, il che può essere determinante nei combattimenti più impegnativi, soprattutto quando si parla di boss fight, tutte splendide, tutte particolarmente divertenti, tutte belle toste. È il dubbio che Returnal non sia un gioco perfetto, e capisco benissimo che afferma che 80€ per un simile titolo siano troppi, anche se volendo essere onesti 80€ sono troppi secondo me per qualsiasi gioco. Ma comunque sta di fatto che alla fine dei conti l'esperienza che mi sono ritrovato a vivere è stata incredibile. Ho adorato ogni secondo della creatura targata Smart, le sue feature, le sue idee, le sue meccaniche e qualità intrinseche. Tutto ha funzionato meravigliosamente, e una volta raggiunto l'agognato true ending, mi sono ritrovato con un bel sorriso stampato in faccia. Nonostante ciò, le critiche non sono comunque mancate, e molti utenti si sono detti delusi dall'esperienza offerta, il che a dirla tutta mi sembra più che giusto. Come detto, alcuni problemi sono effettivamente presenti e possono anche dar molto fastidio. Come sempre, i gusti dei singoli giocatori sono determinanti nel decretare l'apprezzamento meno di un dato prodotto. Detto questo, mi è però dispiaciuto constatare come da più parti in molti abbiano nuovamente dimostrato il loro povero intelletto, sostanzialmente lanciandosi a testa bassa verso il day one di Returnal, e poi, dopo appena 5 minuti dall'inserimento del disco nella console... Aspetta, ma questo roguelike... è un roguelike... e a me non piacciono i roguelike!